Si poteva anche vincere Sicuramente abbiamo giocato contro una squadra forte che rispettavamo e che ha dimostrato di essere forte Se avessimo trovato il gol sul palo di Ferretti in quell'occasione in quella mezza situazione nel primo tempo sarebbe stata forse una partita un po' più aperta Invece poi loro con l'espulsione e noi con un pizzico di fretta abbiamo trasformato la partita in una partita un po' più chiusa e quindi gli spazi abbiamo fatto un po' di fatica a trovarli Detto questo ci sono le tre situazioni anche nel secondo tempo il colpo di testa in cui Bigotto la toglie a Ferretti il colpo di testa di Solerio dalla linea di porta e l'ultima azione di Redi, Melechi che sono lì, che potevano quindi è per quello che ho iniziato dicendo si poteva anche vincere perché poi le situazioni per portarla a casa le avevi avute abbiamo avuto un po' di fretta in alcune circostanze nello sviluppare però la prestazione è ancora una prestazione di tutto rilievo di personalità, di qualità di terza partita consecutiva che non subiamo gol mi viene quasi da dire che non subiamo quasi dei tiri perché è vero che loro oggi hanno giocato 50 minuti in dieci uomini però questo fatto da continuità ad altri fatti che comprovano il fatto che stiamo facendo bene anche da quel punto di vista lì quindi ma insomma pendere la bilancia è esagerato perché la partita l'abbiamo fatta sempre noi cioè non è che loro ci hanno messo in difficoltà da quel punto di vista dal punto di vista delle transizioni lo trovavano qualche spazio e hanno provato a fare qualche ripartenza che ha attecchito proprio perché noi avevamo questa voglia di fare il risultato pieno e che in qualche circostanza ci ha fatto essere un po' meno equilibrati di quello che dovevamo essere però beh sul fatto che loro abbiano forza, fisicità e qualità non devo certo confermarlo io ma sì allora a me il primo tempo è piaciuto perché a parte quella situazione in cui hanno giocato bene Recino e Isella tra di loro che è andato Cerri poi a chiudere a inizio gara secondo me avevamo fatto un buon primo tempo e avevamo anche noi creato le condizioni per poter far gol secondo tempo alla fine quasi non vorrei che il non aver vinto generasse una frustrazione eccessiva rispetto a quello che ha espresso il campo sicuramente si poteva essere un po' più lucidi però è anche vero che la squadra ha fatto una partita importante contro una signora squadra quindi sì magari tra primo e secondo tempo qualcuno preferisce il primo qualcuno il secondo anche comunque per voglia e per voglia di andarsi a prendere la partita è apprezzabile anche che i ragazzi abbiano questo spirito nel secondo tempo e quindi a me diciamo che sono piaciuti tutti e due grazie a tutti grazie a tutti